Io inviterei adesso Tiziano Diasioli che ha realizzato questo filmato insieme di una decina di minuti che non è solo il realizzatore ma anche chi ha dato una serie di idee, ha portato materiale insomma quindi è proprio l'anima di quello che mi avremmo trapporto. Prego Tiziano Puglia. Scusatemi se leggo ma il microfono e l'emozione potrebbero farmi tutti i stessi. Sono sempre stato un appassionato di strade e naturalmente di ponti e sulle strade asfaltate e sterrate ho trovato la mia fortuna riprendendo tutti i campionati mondiali rally automobilistici dal 77 al 92 per il T-Plancia Fiat. Successivamente mi sono dedicato al turismo culturale. Durante le riprese di uno di questi video, con quel di Belluno, mi sono soffermato più a lungo sul ponte che avevo già visto più volte e avevo più volte attraversato, quello della Vittoria. Elegante l'ho definito e ne ho ripresi numerosi per dettagli artistici. Un bel pannello illustrava le caratteristiche e anche chi era l'ingegnere che l'ha costruito. Eugenio Miozzi, mai sentito nominato. Aggiungeva il pannello che Miozzi aveva procertato un ragunno di prestigiose opere, tra le quali il ponte transaragonale di Venezia, i suoni vecchi e i tuminesi, assieme ad altre opere in laguna, compresi i palazzi del Casino e del Cinema, qui davanti. Avendo procettato anche il piazzale Roma, l'autorimessa di mille posti ed era la più importante in Europa per l'epoca, aveva procettato il ponte della Cavenia e della Stazione. E quindi è ben difficile non calpestare una sua opera. Mi è nata una forte passione per questo genio dei ponti. E approfondendo, ho scoperto che ha progettato anche gli ultimi 200 chilometri montani nella strada statale del Bremio, da Borghetto fino al confine, costruendo 12 ponti. Ha costruito il ponte d'uso a Bozzano con tecniche assolutamente innovative. E poi tutte le strade nazionali del Cadore, distrutte dopo la Prima Guerra Mondiale, compresi 20 ponti. Si trattava ora di mettere in video le sue opere, ed ecco che è trovata una perfetta sintonia con l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, nella persona di Mariano Carraro, col Collegio degli Ingegneri e seduto da Maurizio Pozzato. Il risultato lo vedrete. E mi auguro di completare il film con le opere del Miozzi, del Belenese e del Trentino Alto Anzio. Un doveroso ringraziamento a mia moglie Miranda e agli miei collaboratori dell'ospitalità della Regione Veneto. Grazie. Grazie. Grazie.